Pasqua 2021, anniversario del fidanzamento con il mio Piero. Si, perché è la successione di Pasqua, si, si, si. Si, non ho messo con la mia amica Teresa, che ha piaciuto il Piero. Noi, scusate, siamo nel momento della comunione, se siamo chiedi fila, che la telefonda ne è, perché non si è mai messo come adesso, se siamo separati la fila di Fomé e la fila di Fomé. Non sono tutte le fila per non ricevere la Santa Eucaristia, ma non ho detto con la cura di Dio, che è nella fila di Fomé, che è il Piero, 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 il Piero. In quel momento lui mi ha chiesto, lui mi ha chiesto, lui, da tutto ciò. Infatti mi ha chiesto, mi ha chiesto, non è chiesto. E' la Teresa, la dintana, bianca bianchita, come Santa Rita, si accascia. E'a vero, il Piero, il Piero, il Piero, il Piero, il Piero, il Piero, il Piero. Perchè megrolo, mi ha chiesto la mamma perchè quello regolore che non mi ha chiesto, ai genitori mi sono nascondito a vedere il porto e quando ho sentito il rumore della mutua sono affermato a vedere lui che ha fermato il mutuo e lui mi ha detto sceltaci ma non c'è ma bene che resta già capitano di roba e non c'è ma begnano scelta sceltaci poi mi ha detto tacchiet ma volevo mi attaccare perché si fa peccato poi lì ad un'accelerata ma non c'è il martello che mi ha detto la muta che mi ha fatto da male poi lì si ferma l'avanti di smettere e mi ha detto a te si ferma ma lì mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto e il pietro mi ha detto perché mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto Dammi un bacino! Mi sono restato, mi sono restato perché Allora me d'entrere di me, dentro del meccone me l'immaginai un po' più romantico un po' meno grece però d'entrere di me pensai magari si pensai al 7 mi esce il mi esce il mi esce il mi esce del mestiere però mi mi sono mai a dire che è un bando la mia mamma mi dice sta attenta e l'alma è di me sta attenta e l'antipro sta attenta ma noi ti chiede a me mi esce il mi esce il mi esce sta attenta ma quando Natura chiama Maria risponde eh forza allora buona Pasqua a tutti forza e coraggio e un abbraccio a distanza ciao 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 ciao